Ciao a tutti e bentornati a Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con lo Shandong, Luneng. Dopo aver allungato in classifica siamo ora a 9 punti di vantaggio, affrontiamo una squadra decisamente importante come quella del Fuli che attualmente è quinta, quindi addirittura è in lotta per il posto Champions. Ovviamente qualora il posto nella Coppa diventasse libero, beh a questo punto l'appetito viene mangiando, se riusciamo a mantenere questi 9 punti di vantaggio o addirittura incrementarli a questo punto, il WSF sta decisamente crollando, potremmo arrivare agli scontri più importanti con una certa sicurezza e questo non sarebbe male. Abbiamo due giocatori in meno, Tang Miao e Mateus Vital che ormai ci manca da tanto, 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 tanto tempo e insomma potrebbe Zeng Long, sì vabbè, in forma e insomma serviranno per darci qualche ricambio. Certo, Mateus Vital teoricamente era un nostro titolare ma non possiamo fare molto altro. Sì, in effetti potrei ridurre un pochettino l'allenamento, l'allenamento a livello di intensità lo abbasserei a basso per due partite insomma. Noi adesso ci stiamo concentrando sul controllo palla, voglio farla girare bene, insomma mi sembra la cosa migliore. Magari si lamenteranno che abbassiamo troppo però insomma, chi se ne frega, chi se ne frega, questo punto dell'anno l'importante, poi tra l'altro giocando così spesso praticamente non si allenano, quindi insomma è assolutamente secondario il tutto. Tra l'altro mi chiedevo ma con l'Algeria quando ho le prossime partite, solo un attimo eh, che peraltro non credo di farvi vedere perché saranno partite francamente inutili, il primo di settembre e il 4 di settembre, cioè saranno prima della partita di Champions. Adesso vediamo un attimino, non credo di farvele vedere, le giocherò io senza farvi vedere nulla. La vittoria dipende solo da noi a questo punto, beh direi di sì. Ammiro il modo in cui gioca, sono un'ottima squadra, ma non significa che non potremo ottenere un buon risultato. Abbiamo ottimi passaggi riusciti, è uno dei migliori medie di contrasti, siamo felici di alzarci e andare a giocare, perché sono passato all'Algeria tra l'altro come sfondo. Adesso tornerò ai nostri amati Shandong Luneng. Tre giocatori convocati per gli ASEAN Game, i Anjun Ling, cominciano il 28 agosto. Speriamo che non giochino tanto, Yan Ziao e Njabao. Vabbè, 20 minuti, sì, si può iniziare a giocare, beh, finché non è in forma, massimo di 60 minuti è partita, non voglio che si rompa, va. Non sono tornato allo Shandong, ma adesso ci torno. Salta riunione e torniamo alla schermata Shandong. Lala Li. Non è pronto per un test fisico, ovviamente. Non giocherà, non giocherà, non giocherà. Allora, noi giochiamo, andiamo a casa del Fuli, mentre Wexas in Fujiko contro lo Yong Chang, quindi un'altra partita non facile per loro. A questo punto anche il Tianjin bisogna guardare che gioca contro Guansu. Che se non sbaglio è solo più un punto indietro. Allora, direi che questa è la partita in cui fai giocare un pochettino di titolari, quindi Liu Junshai al posto di Zhang Tzu. Poi Meshakeli al posto di Zhang Zizè, che però ha giocato bene l'ultima partita, è un peccato toglierlo. Lasciamo riposare Ao Junmin un turno. Poi mettiamo Wenjabao, perché ovviamente deve giocare povero Wenjabao. A sinistra mettiamo Vuxingan, facendo riposare Zenglong. Liu Binbin per ora lo facciamo giocare, va bene, perché è titolare. Al Shani non possiamo far diversamente e ovviamente là davanti se ne torna il nostro Gonzalo Carneiro. Zenglong lo togliamo di riserva, sì, lo facciamo proprio riposare sto giro. Va bene, conferma formazione. Oddio, devo togliere uno di loro. Eh, togliamo Freire. Facciamo riposare Freire un turno. Facciamo così, va. Va bene. Spogliatoio. Forza ragazzi, possiamo allungare una stessa vincente. Solite frasi che non fanno danni, ma in realtà dicono veramente poco. Ogni tanto dovrei rischiare di più con delle frasi che possano darci qualche risultato in più. Allora, loro dovrebbero essere molto spinti dal punto di vista offensivo, non avere una grossa difesa, quindi potrebbero in mente la cosa che ci conviene è spingere anche noi. Liu Binbin intanto crossa dentro. Wen Jabao, Elia, Vuxingan, ribattuto e poi punizione. Probabilmente era in fuorigioco. Quindi probabilmente spingendo un po' dovremmo tenerli lontani dalla nostra porta e questo dovrebbe aiutarci. Elia, Elia, Carneiro, Yan Zihao, cross dentro Carneiro! 1-0 dopo 2-3 minuti. E siamo già in vantaggio, così in scioltezza. Ha segnato anche lo Shanghai Shenhua, non che questo ci importi particolarmente. Spingiamo ancora un pochettino e poi vedremo cosa fare. Magari potrei cambiare qualche terzino. Elia, Al Shrani, Wen Jabao! Battuto così. Perché l'arbitro ha alzato le mani? Forse per dire che non era fuorigioco. Non mi sembra ci fosse un vantaggio, non mi sembra ci essere fatto fallo. Yan Kuo, Zahavi, Nansong, Yan Kuo, Liu Junshai recupera il pallone, Zhang Zizeh, Elia, Wuxingan, Carneiro, Wuxingan, Elia, 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 Al Shrani, pronto al cross, ribattuto, Wen Jabao, tiro, parato. Troppo che Matteo Svital quando lo escluderemo dalla lista Champions non si incazzi, ma insomma potrebbe capire che appena è rientrato da un infortunio non è in forma, eccetera, eccetera. Così mettiamo dentro Elia. Barratli! Al Shrani corre il pallone, non riesce a riprenderlo, prova ancora a correre di dietro, dai Al Shrani! Wen Hui! Barratli, Al Shrani chiude benissimo la diagonale, Carneiro, Wux anticipato, Li Buo, fase di gioco veramente aggressiva da parte loro, Li Bao nel ventiduesimo, Nansong, Al Shrani ancora chiude. Qua tra un po' inizieranno a fioccare i cartellini se continuano a farsi interventi, Elia ruba il pallone, lancia però malissimo Carneiro, che però forse ruba palla, ruba palla, incredibile, un errore, tiro da lontano, bloccato. Erano in effetti riusciti a rientrare molto bene. Oh, Carneiro, una contusione alla tibia. Se così lo tolgo. Un gol l'ha fatto. Però mettere Yu Dabao mi piange il cuore. Pan! Liu Junshai, Baratli, Yan Kuo. Lancio lungo dove non c'è nessuno, c'è Al Shrani che chiude. Liu Binbin, pronto al cross, Liu Binbin dentro per Carneiro! Facciamo che lo teniamo ancora un attimino e poi nel secondo tempo vediamo anche come peggiorano le sue condizioni. se peggiorano. Pan! Zhang Zizze! Wen Dabao! Elia! Al Shrani! Zhang Zizze! Yan Zihau! Wuxingan anticipato, ma Yan Zihau con il dietro pallone. Ancora cross. Wen Dabao al tiro! Stiamo tirando un po' da lontano, eh? Stiamo tirando un po' da lontano. Elia! Wen Dabao! Vero che il portiere non trattiene. Zhang Zizze! Al Shrani! Eh però, se sbaglia così, Kai Taiyan qua ha fatto un bellissimo recupero, contando anche che è infortunato. Però, non male che poi sbaglia il passaggio. Wen Dabao, largo per Wuxingan. Wuxingan cross dentro, fallo! Fallissimo! Carneiro è proprio andato giù! Andato giù! Ma si è buttato! Carneiro pronto al tiro dal dischetto. Potrebbe essere il 2-0 che ci risolve la partita. Ha parato! Mamma mia se l'ha tirato male! L'ha tirato malissimo! Vabbè! È così! Carneiro, mi scadi facerando male un rigore che ti avevi procurato. Pan! Yang Kuo! Zahavi! Iteng! Rodriguez! Rodriguez! Lo chiudiamo bene! Zahavi! Meno male che è un po' lento questo Rodriguez! Un rischio però! Però un bel tiro di testa! Però obiettivamente si è bloccato col pallone e si è fatto ben recuperare. Li Biao! Yang Kuo! Proviamo a liberare! Wen Jiabao rincorre il pallone! Tu che sei fresco! Bravissimo! Vuxingane non riesce a prenderlo! Cheng Ulai! Wen Hui! Li Bao! Neng Song! Rodriguez! Si fa recuperare bene! E però Zahavi c'è quasi arrivato! Xuzong! Perché sto ancora giocando con Xuzong? Al Shrani! Mi devo ricordare di cambiare portiere! Zhang Zizze! Wen Jiabao! Elia! Yan Zihao! Yan Zihao! Vuxingan! Elia! Wen Jiabao! Ancora Elia! Zhang Zizze! Wen Jiabao! Elia! Liu Bin Bin! Wen Jiabao! Largo per Al Shrani! Pronto al cross! Carnero! Vuxingane ribalta! Li Bin Bin deve solo appoggiarla! Deve solo appoggiarla in porta! Va bene! Passiamo un po' a controllo! Così rallentiamo un po'! Intanto il buon Carnero! 82%! Elia! Ribattuto! Barratil! Rodriguez! Iteng! Barratil! Iteng! Stavo pensando che il problema di mettere al Shrani è che Zhang Zeng non gioca di là! Quindi rimarremo senza un terzino! Carnero si riparte! Liu Bin Bin! Cross dentro per Elia che deve solo spingerla in porta! Ha rischiato di impalinarsi! Ma finalmente abbiamo fatto... Ha fatto gol anche lui insomma! Liu Bin Bin ha fatto un bellissimo assist! E direi che la partita l'abbiamo più o meno chiusa qua! Quindi adesso faremo qualche cambio! Elia! Ancora rigore! Quanti rigori ci dà conto? Carnero questo non lo puoi sbagliare! Lo Yongchang passa in vantaggio! Carnero questo non lo puoi sbagliare! E di fatti non lo sbaglio! 4-0! Vabbè direi che insomma questa partita l'abbiamo un po' chiusa qua! 40 minuti 4-0! Non c'è molto altro credo da dire! Elia! Cross dentro! Liu Jun Shai! 5-0! Vabbè! Qua stiamo facendo quello che vogliamo! Credo che loro abbiano completamente sbaraccato! Allora! Visto che loro hanno completamente sbaraccato! Noi facciamo qualcosa di furbo! E qualcosa di furbo potrebbe essere! Tattiche! Togliere! Carnero e mettere Yudabao! Togliere! Ah! Zeng Zeng non me lo sono portato dietro però! Yan Ziao giochi anche a destra! Male! Trovami con dei terzini così pessimi! E a centrocampo mettiamo Liao Li Shang! Va bene! Spogliatoio! Palla alla squadra! Continuate così! C'è stato veramente bravi! Però le mie tattiche, i miei cambi tattici non li ha fatti! Non li ha fatti! Gli ha fatti! Gli ha fatti! Stronzata! Mi doveva ancora segnare! Liu Bin Bin! Abbiamo un po' stravolto la squadra però così magari facciamo riposare un po' di giocatori! Insomma sul 5 a 0 Zavi, Zavi, Zavi alle stelle! Direi che sul 5 a 0 l'idea di provare a chiudersi un po' non sarebbe una brutta idea! Non sono scomparso nel nulla ma stava per esserci un botto terrificante perché la porta mi stava per sbattere fortissimo! Non la porta qui dentro e ovviamente la porta mia è di camera! 54! Sul cronometro! Andiamo un po' Non so che tra un po' faccio riposare anche il Liu Jun Shai e metto Freire! Tanto abbiamo tolto ben due stranieri quindi posso farlo entrare senza alcun problema! Zhang Zizze! Liu Bin Bin! Ammonito! Non so cartellino giallo per cosa! Ah era per la punizione quella che abbiamo appena tirato! Va bene! Loro sono a pezzi eh comunque fisicamente! Per carità magari se stanno andando spingendo un po' Facciamo contenimento così evitiamo di prendere... di rischiare altri... Ci stanchiamo anche meno! Elia! Yan Ziao! Liao Li Sheng! Zhang Zizze è ribattuto! Huxingane non riesce a rincorrere! Andiamo di là intanto! Ah 1 a 1 ha pareggiato! Vabbè però insomma per ora andiamo ancora abbastanza bene! Elia! Ah è successo proprio adesso! Vuxingan! Liao Li Sheng! Elia! Vuxingan! Wen Jiabao! Largo per Vuxingan! Potrebbe ricrossare dentro! Wen Jiabao! Liao Li Sheng! Al tiro! Gol! Mamma mia che euro gol che ha fatto Liao Li Sheng! Che gol! Parco cane! Rivediamolo un attimo! Carità un secondo tempo inutile ma un gol del genere! Vale il prezzo del biglietto anche del secondo tempo! Boom! Vabbè insomma che dobbiamo fargli ancora a sto Fuli! C'è un pelino patito il Fuli eh! A questo punto facciamo anche l'ultimo cambio! Facciamo riposare anche Liu Jun Shai così la prossima se la gioca tranquillo! No facciamo riposare Elia va! Mettiamolo qua! Liu Bimbini in mezzo! Così! Facciamo riposare un po' Elia! Zeng Zeng! Punizione alta! Settantottesimo! Chang Yu e Lei! Yang Li Yu! Pan Nansong Zeng Zeng lancia lunghissimo ma non c'è più nessuno! Segnano tutti ovviamente tranne Yu Dabao eh! Che credo abbia fatto tre gol in questo campionato! Quanti ne ha fatti Yu Dabao? Adesso vedremo la prima volta che usciamo da qua vedremo! È vero che siamo passati a contenimento quindi insomma non stiamo più spingendo però! Liu Bimbini perde il pallone si impappina un po' Barratli Passiamo a controllo va! Wen Jabao lancia lungo per Yu Dabao che sei da solo! E riesce a tirare addosso al portiere perché giustamente vuoi mica fare un gol Yu Dabao! Tiriamo addosso al portiere piuttosto anche se sei completamente da solo! Zhang Zizia aveva fatto un assist bellissimo! Andiamo un attivino a Yu Dabao quanti gol ha fatto! Ha fatto 4 gol in Champions non me la ricordavo ne ha fatti addirittura 8! Me ne ricordavo molti meno però insomma sei un po' più furbo di quel che mi ricordassi! Probabilmente ad essere andato in vacanza mi ha fatto dimenticare che sei un po' più furbo! Però abbiamo fatto 21 tiri e 14 in porta! Li stiamo facendo a pezzi! Di là intanto sempre 1-1 fantastico! E il Tianjin perde perché sta addirittura perlungando! Lo Yongchang è ripassato in vantaggio! Cosa fa il Tianjin? Perde il 4-2! Vabbè ma allora così vogliamo proprio vincere il campionato con largo anticipo! Con larghissimo anticipo! Bruninho su Song blocca! Bruninho che è entrato nel secondo tempo peraltro! Zhang Zizia! Liu Bin Bin! Zhang Zizia! Zhang Zeng! Liu Jun Shai! Zhang Zizia è alto! Vabbè! Sempre 3-1 addirittura Liu Jun Chang ormai! Vola via! Vola via! Vola via! Zhang Zeng! Wen Jiabao! Xiaowei! Direi che questo campionato si sta... Nelle ultime partite si è assolutamente accurvato verso di noi! Non so perché... Vabbè ci hanno fatto 6-1 di Bruninho! Non so perché Waxaxinfu abbia mollato! Che cosa porti il pallone a centrocampo? Stai prendo 6-1 il novantesimo! Ma fatti un po' furbo! Buon! Finito qua direi! Battiamo questo fuori! 6-1! L'abbiamo semplicemente demoliti! Demoliti! Non so perché Waxaxinfu si è crollato in questo modo! Mi sembra veramente strano! 6-1! Doppietta di Carnero! Liu Bimbing che ha sbagliato anche un rigore! Peraltro! Liu Jun Shai ha fatto anche un gol lui! 12 punti di vantaggio sulla seconda! Insomma ormai ci stiamo allungando tantissimo! E' una grande vittoria per tutti noi! Gonzalo un professionista! E' stato un bel momento per Liu Jun Shai! Un gran gol! Per lui! Elogia la prestazione di Liu Bimbing! Sono sempre contenti! Vediamo se riesco Rosa! Liu Jun Shai! Non Liu Jun Shai! Gli Auli Sheng! Vediamo se è ancora scontento! Come sei di umore? Rapporti! No! Interazione! Confronto! Non mi ricordo mai! Va bene! Non gli importa! Va bene così! Non sfruttiamo! Rischiamo ancora di fare casini! Va bene! Direi che per oggi è tutto! La prossima volta affronteremo le Nan! Quindi insomma! Kudo ha ottenuto quello che voleva! Bisogna di un piano B! Per lei che bravo Liu Bimbing! Ne abbiamo già fatto! Ne abbiamo già complimentati! Volevo solamente vedere! Come andiamo invece nella doppia fase! Il numero di gol segnati! Il numero di gol fatti! Ormai ne abbiamo 14 di vantaggio su Vexxinfu! Gol subiti! E cazzo Leoning non ne prende! Non riusciamo a avvicinarci a Leoning neanche per sbaglio! Dobbiamo ancora affrontarli! Noi li abbiamo già affrontati! Quindi non possiamo neanche fargli una goleada! Porco cane! Va bene! Direi che per oggi è tutto! Ci vediamo domani con le Nan! Partita che a questo punto rimane un pelino meno importante! Anche se insomma vincendola continueremo la nostra corsa! E poi ci saranno le semifinali di andata di Coppa! A questo punto abbiamo anche lo spazio per provare a vincere la Coppa! A domani! Ciao ciao!